Il ragazzo giovane che arrivava, tra virgolette, certe cose non le poteva capire subito e quindi pagava il dazio, pagava il dazio perché magari arrivava il bonesso, il mariani della situazione con grandissimi numeri, grandissime doti che però poi in campo alla domenica o si spaventavano dal tifo o dal modo di giocare e non rendevano quello che poi era nella loro natura.